Un cordiale buongiorno da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Calenzano VI Fiorentino e il Bivio con la variante del Valico in direzione Bologna. Da segnalare anche rallentamenti a causa di un veicolo in avaria in direzione Roma. Spostiamoci in Fipili dove a causa di lavori si registrano due chilometri di coda tra Ginestra Fiorentina e la strassigna in direzione Firenze, un chilometro di coda invece in direzione Livorno. Sul raccordo Siena Firenze a causa di uno scambio di carreggiata per lavori all'altezza dello svincolo di Tavarnelle e Val di Pesa che attualmente è chiuso in entrata e in uscita in direzione Firenze si segnalano rallentamenti in entrambe le direzioni. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!